In Italia ci sono diverse lingue con una storia antica e un presente vivo. In questo podcast abbiamo deciso di raccontarne tre. Siamo andati in Valle d'Aosta sulle tracce del Patuà, all'estremo opposto della penisola, nelle zone della Puglia in cui si parla il greco salentino, e in Sicilia, nella piana degli albanesi, dove risuona l'arbreche. Insieme a due fotografi e un fotografo abbiamo esplorato valli e paesi, incontrando persone che ogni giorno tengono insieme tradizioni secolari e contemporaneità e lo fanno con la più semplice delle azioni. Parlando. Le immagini e le puntate di questo podcast si uniranno in una mostra fotografica che si terrà a Torino dal 20 aprile negli spazi di camera. Questo è Voci Nascoste, le lingue che resistono, ed è un progetto di CoraMidi e Camera, centro italiano per la fotografia, in collaborazione con il gruppo Lavazza.